Direi agire il conflitto e le pratiche alternative energetiche, perché poi comunque dobbiamo agire. Ed è molto importante che presentare quello che abbiamo fatto, perché facciamo solo un esempio, ovviamente quello più immediato, più vicino, su che cosa è successo quando questo governo, come tanti altri governi, ha messo mano a una serie di provvedimenti e di cose che ha chiamato decreto semplificazioni, che con la scusa di togliere la burocrazia, ovviamente ha cercato di dare mano libera al mercato e regalare alle multinazionali e ai petrolieri più possibilità di intervento e di devastazione. E voglio dirvi che tra le cose che chiedevano era l'abbattimento dei tempi di risposta o di richiesta di accesso agli strumenti di risposta e provvedimenti. Quindi, per esempio, rispetto alle via, si tagliava il tempo che hanno i cittadini per poter fare dei ricorsi, si svendevano gli usi civici, che sono quei territori che non sono governati ufficialmente né dallo Stato né dagli enti locali, ma da comunità civiche, per poter procedere alla devastazione dei territori e tantissime cose di questo genere. C'era la proposta di cominciare a ampliare la possibilità di fare dei stoccaggi di idrogeno anche in terra e in mare, come per esempio nel mare Adriatico e così via. Cosa è successo? Che sulla spinta delle iniziative che abbiamo fatto siamo riusciti a mettere insieme un insieme di 170 organizzazioni su tutto il territorio nazionale e abbiamo lavorato con un lavoro che si direbbe di lobbying, ma comunque di azione concreta, innanzitutto per far sapere, perché spesso i cittadini non si impegnano, non vanno avanti perché magari non sanno che sta per succedere una cosa, se tu non sai che c'è un pericolo non ti muovi, perché dovresti lottare se non sai nemmeno che c'è un problema. E quindi abbiamo fatto informazione, abbiamo fatto proposte, abbiamo fatto emendamenti e cose di questo genere. Ed è stato così importante, è così anche oltre quello che pensavamo di poter incidere, che l'altro ieri il governo è quasi caduto. Voglio ricordare che 76 deputati della maggioranza non hanno votato e che se non gli amici del partito del mattone, dell'inquinamento, eccetera, che è Forza Italia e la Lega, hanno votato a favore di questo provvedimento di semplificazioni perché ovviamente rispondono agli interessi dei loro padroni. Questo governo sarebbe caduto e non sarebbe passato questo decreto semplificazioni. Per vedere, cioè questo per dire quanto, cioè comunque nonostante in una situazione di merda come quella che stiamo, eccetera, eccetera, che sembra che non si possa fare niente, non si può manifestare, eccetera, eccetera, comunque all'interno delle condizioni che abbiamo si riesce a fare gruppo, a fare pressione, a guadagnare quel tempo e quelle possibilità che ci servono per continuare la lotta perché è chiaro che non possiamo fermarci di fronte a quello che fa il sistema perché il sistema fa il suo lavoro, il padrone fa il padrone, siamo noi che dobbiamo darci da fare e addirittura in alcuni territori i deputati hanno votato anche contro, non solo non hanno votato, e quindi 76 parlamentari non sono assolutamente pochi. Che cosa, e abbiamo anche ottenuto delle cose importanti, io dico due o tre cose proprio, cioè così velocemente, non sono riusciti a toccare gli usi civici, questo può sembrare un problema così secondario, perché gli usi civici non sono tantissimi e non hanno una quota del 10% o del 20% del territorio, però sono proprio in quei pezzi di territorio dove devono passare le grandi opere, per esempio per quello che riguarda il gasdotto dalla Zebaijan, Notap, Dosnam, che va a Minerbio, eccetera, passa proprio sui terreni civici e finché le comunità non davano il parere favorevole non possono fare, non possono procedere al lavoro, tant'è vero che per esempio la SNAM nei nostri territori ha detto che se andava bene poteva cominciare i lavori soltanto nel 2026, perché sapeva che ci sono questi problemi. Bene, questa cosa non è passata, quindi per esempio tutti i movimenti che lavorano sull'Appennino contro la SNAM e contro questo obbrobrio che è far passare una metanizzazione all'interno dell'Appennino, che è un territorio altamente sismico e con tutti i problemi che già ha di spopolamento, eccetera, eccetera, è stato comunque una cosa importante, l'altra è che una cosa che si erano inventati con questo decreto era che tu le bonifiche le potevi fare sui terreni ma non sulle acque sotterranee, che è una follia. Noi a Bussi, se avessimo fatto questo in Abruzzo, avremmo tolto un po' di terra avvelenata, però l'acqua sarebbe rimasta contaminata per centinaia e centinaia di anni, quindi sono cose concrete che abbiamo portato a casa, che non sono cazzate, non sono cose piccole, sono cose importanti per continuare la lotta e per dire possiamo agire, possiamo lavorare, possiamo determinare, ovviamente non nel paradiso ma su questa terra, non su altre cose. E così anche i ricorsi, grazie, anche i ricorsi che abbiamo allargato i tempi dei ricorsi che loro volevano restringere. Certo, è ovvio che come contropartita hanno mantenuto quelle cose necessarie al mondo estrattivo per continuare e peggiorare le cose, come per esempio appunto quello di fare degli stoccaggi o in mare o in terra per l'idrogeno, anzi cominciando a parlare dell'Italia come hub dell'idrogeno a livello mondiale perché vorrebbero importare l'idrogeno da fonti rinnovabili dell'Africa e utilizzare i gasdotti, cioè cosa che tra l'altro poi tecnicamente è un po' difficile comunque, per portare l'idrogeno nel nostro territorio e poterlo utilizzare per la produzione energetica. L'altra cosa che sono comunque riusciti ad ottenere è il fatto che per tre anni ufficialmente non si potranno nemmeno discutere le grandi opere. Fino a questo momento, perlomeno a livello formale, i cittadini dovevano essere chiamati a discutere la società attiva, cose che a volte non sono servite, comunque sono servite perlomeno di informazione. Per tre anni non si possono fare più queste assemblee. L'altra cosa è che la soglia degli affidimenti diretti per opere non è più di 40.000 euro ma arriva fino a 150.000 euro. Voi pensate cosa significa non solo per la mafia, per tutte le organizzazioni malevitose eccetera, ma per le corruzioni locali che ci sono, cosa significa non sapere niente fino alle opere non solo di 40.000 ma di 150.000. Che cosa significa per i nostri territori? Non solo, ma che non si possono pubblicare i risultati, quindi anche la trasparenza zero, nemmeno degli affidimenti con meno di 40.000 euro. Quindi noi non sappiamo nemmeno perché è stato affidato, come è stato affidato eccetera eccetera. L'altra cosa ultima, insomma è una cosa anche gravissima, perché a volte proprio in questa lotta di ritardare i tempi, di guadagnare tempo, noi per esempio rispetto al gas dell'Appennino siamo riusciti a guadagnare 15 anni, cioè nel senso per 15 anni non sono riusciti a mettere le mani sul nostro territorio, quindi non è una cosa di poco conto e abbiamo anche delle volte vinto al TAR, cioè con sospensioni, cose varie eccetera eccetera. Bene, cosa è successo? Che anche qualora il TAR fosse a noi favorevole e negativo all'impresa, l'impresa può chiedere di rivedere la sentenza, cioè questa dovrebbe essere la sentenza finale, di rivedere la sentenza, perché aggiungendo delle migliorie si può ritornare a richiedere le stesse cose, cioè quindi magari tu fai uno sforzo enorme per arrivare a fare un ricorso al TAR, lo vinci, lo blocchi tutte le cose eccetera eccetera, e dopo possono ricominciare da capo come, cioè a questo punto la legge non esiste, cioè anche quella formale, anche quella loro, anche quella che ufficialmente li protegge non ha più senso, non ha più valore, e mi riferisco anche a quello di cui si parlava ieri, sul fatto che c'è sempre di meno struttura ufficiale, ma struttura concreta di comando. E allora tutte queste cose, i rallentamenti, le vittorie, le parziali, quello che produciamo, hanno anche uno spazio, cioè non hanno soltanto un movimento, hanno anche uno spazio, e cos'è questo spazio per noi? Il territorio. Cioè la stragrande maggioranza delle persone che lotta, è chiaro che parte dal proprio territorio, cioè è ovvio perché capisce, quando noi abbiamo fatto la manifestazione, nel quale abbiamo chiuso definitivamente con la petrolizzazione davanti all'Adriatico in Abruzzo, con l'Ombrina, cioè prima di questa campagna mia mamma non sapeva cos'era una multinazionale, però a partire dal fatto che c'era un problema concreto, oggettivo, eccetera, abbiamo ovviamente agito non in maniera populistica, ma facendo capire oltre quello che stava avvenendo in quello specifico, perché avveniva quella cosa in specifico, attraverso quello tanta gente ha capito che cos'è il capitalismo attuale, che cos'è eccetera, cos'è la devastazione ambientale, cosa sono le grandi opere e così via, così via, così via. Quindi se c'è poi uno spazio dove queste cose si realizzano e magari anche per assist a quello che devi dire, possono concretarsi oggettivamente, è proprio il territorio. Perché è vero che abbiamo sempre, tutti abbiamo sempre fatto proposte alternative, non è vero che non siamo quelli del no, assolutamente, è ovvio che siamo quelli del no, perché, visto le merde che ci sono in giro, però abbiamo sempre fatto proposte alternative. Ma dove queste proposte alternative possono cominciare ad operare? Perché, cioè, io faccio sempre la battuta, non possiamo aspettare né il regno di Dio, né il socialismo in terra, né, cioè, non è che la gente può aspettare 40.000 anni per vedere un risultato, no? Il chiaro e logico che non ci si batte soltanto per un risultato immediato, però è quello che serve, cioè, per crescere nell'autostima, crescere nella capacità di dire io sono in grado, io posso, no? Cioè, io insieme posso cambiare la realtà che mi trovo davanti. E quindi è questo, diciamo così, il senso fondamentale della campagna che portiamo avanti ed è per questo che è campagna, non è un'ulteriore organizzazione che nasce per, eccetera, perché ce ne sono tantissime. Certo, magari noi abbiamo fatto poi 170 organizzazioni, tra cui quelle anche del Veneto, eccetera, eccetera, poi magari sul fatto quotidiano scrivono che l'ha fatto il WWF e Lega Ambiente, va beh, insomma, lasciamo per, non ce ne frego un cavolo, no? Però, cioè, è così, sappiamo che abbiamo inciso, che abbiamo fatto delle cose fondamentali ed ecco perché ci chiamiamo per il clima fuori dal fossile, perché è la ciccia, cioè, una cosa da poter fare per salvare il clima è uscire dal fossile, punto. È chiaro il discorso, non ce n'è un altro, a me non me ne frega se vieni da una storia, da un'altra, da un'altra. È quello il discorso che c'è, no? E su quello troviamo non tanto le unità forzate, perché stiamo male, perché questo discorso di unità spesso diventa una cosa ideologica quasi, che poi non arriva mai, ma troviamo le connessioni in essi, le connessioni con tutte le lotte che ci sono, come per esempio quando abbiamo poi aggiunto stop ve le eni, no? Cioè, perché? Perché oltre il fatto che l'eni è quella che è, è inutile starla a spiegare, perché l'eni entra anche nell'immaginario, entra anche nelle scuole, entra nella formazione, no? E quindi è ovvio che rispetto, per esempio, all'assemblea che c'è stata all'inizio di questa, di questa, di questa, questa giorni di lotta che stiamo portando avanti, no? Cioè, ci si collega, non perché gli studenti devono fare, cioè, quello che facciamo noi o altro, ma ci si collega perché il pezzo che ci collega qual è? Non è soltanto il discorso in generale, è il discorso che lo studente ha, cioè, vuole, non vuole l'eni a scuola, no? Ed è giusto che l'eni non faccia questa cosa anche per i territori. Allora, lì trovi il modo per creare le connessioni, gli agganci e le situazioni per, cioè, per andare avanti. Quindi, finisco dicendo una cosa che voglio far conoscere, è che, cioè, noi ci troviamo di fronte a una situazione per la quale, anche dove abbiamo ottenuto risultati positivi, abbiamo però una colonizzazione della mente, appunto, cioè, che è terribile, per cui quando un lavoratore mi dice, a me non importa di morire, ma voglio, perché tanto devo morire, voglio morire con la pancia piena, quindi non me ne frega, no? Se magari prendo il tumore, eccetera, eccetera. Ed è, capisco che è una condizione. Però dopo, quando suo figlio si ammala, ok? Poi, cioè, non riesce a fare più un cazzo perché si sente comunque in parte colpevole, come in piccola parte lo è, no? E molla tutto sulla compagna, spesso, no? Che poi deve portare alla morte, perché spesso, cioè, i tumori che hanno i bambini sono nuovi, non sono i tumori di sempre. Ogni volta ci sono, cioè, se si facessero degli horror tour e si va magari a trovare i bambini della terra dei fuochi e si vede, cioè, che a volte i medici non sanno cosa fare perché sono tumori ogni volta nuovi e quindi sanno che stanno operando su un bambino non per salvarlo, ma magari per trovare la possibilità di cura per qualcun altro. Bene, e lì noi dobbiamo intervenire. Noi non possiamo continuare come movimenti a far finta che il discorso lavoro-ambiente non abbia delle contraddizioni, non poste da noi, ovviamente, ma poste dalla struttura capitalistica e necrofila che abbiamo in questo momento, e porcelo come problema, no? Porcelo cominciando non facendo delle riunioni pansindacali, ma quello di... perché dopo cominciamo con le solite tiritere, se te sei più bravo di me, eccetera, eccetera, ma coinvolgendo i lavoratori e le persone che vivono su questi territori, per cui, per esempio, una iniziativa che faremo più in là sarà quella che a Brindisi faremo un approfondimento su questo tema, cioè con lavoratori che possono essere il sindacato, non possono essere il sindacato, non importa, e movimenti che lottano su quei territori e lo facciamo a Brindisi volontariamente, ovviamente, no? Cioè, perché è un caso emblematico di quello che avviene sui nostri territori. E l'altra cosa è che apriamo, e questo mi piace dirlo, apriamo il fronte Ravenna. Voi sapete che rispetto al discorso dei fossili, Ravenna è il nostro bubbone, ok? Cioè, è il centro, è il luogo dove sindacati e petrolieri hanno fatto, insieme alle amministrazioni complici delle manifestazioni per salvaguardare, tra virgolette, i posti di lavoro, i supposti posti di lavoro, no? Quindi arriviamo a delle situazioni clamorose, appunto, cioè non solo di appoggio come hanno fatto per il decreto semplificazioni, perché alcune delle cose che sono passate, non sono passate, potevano essere bloccate, ma tre giorni prima dell'approvazione finale sono intervenuti i sindacati dicendo che se non passavano quei provvedimenti negativi che vi ho detto, si sarebbero persi 500.000 posti di lavoro. E quindi noi abbiamo questo problema, perché non possiamo avere i lavoratori contro il movimento che portiamo avanti, e però non possiamo nemmeno stare lì ad aspettare che i lavoratori vengano insieme a tutti quanti noi, colonizzati nella nostra mente. Quindi siamo una campagna, cioè siamo concreti, oggettivi, eccetera, e però siamo come gli alberi, che abbiamo le radici profondamente dentro il nostro territorio, che non è un uso, ma noi siamo territorio, però riusciamo a respirare e a vedere perché vogliamo il cielo.